Buone notizie, e ultimamente non è che affrontando l'argomento Juventus ci siano spesso e volentieri good news, ma nell'allenamento mattutino dell'antivigilia di Napoli-Juventus, Danilo e Chiesa si sono allenati regolarmente in gruppo. Cosa significa questo? Che, a meno che domani non arrivino segnali negativi, ma non sono minimamente dietro l'angolo, ma entrambi partiranno per Napoli. Poi, ovvio, starà d'Allegri decidere se concedere loro la partenza dall'inizio o meno, ma le indicazioni di oggi sono molto nette e quindi, dal momento che Danilo e Chiesa hanno lavorato in gruppo, partono con la squadra. E quindi si cerca anche magari di spegnere un po', di gettare un po' di acqua su questo incendio Chiesa, perché ieri invece sentiva ancora fastidio e non si è allenato in gruppo, ha fatto lavoro in palestra, subito a criticare, avete visto, Chiesa qua, tira la gamba indietro, bim bum, oggi Chiesa, che non ha avvertito fastidio, si è regolarmente allenato e quindi ha dimostrato di voler essere il primo a partire per Napoli e vediamo cosa deciderà domani Allegri con la probabile formazione, le prove che farà alla vigilia. Personalmente, per quanto riguarda questo match, punterei più su il Diz dal primo minuto, non lo nego. E anche dietro, sempre personalmente, ma fortunatamente per la Juventus non sono io a fare le formazioni, perché altrimenti le sbaglierei tutte, io prediligerei Rugani. Quindi Danilo, quando è rientrato degli acciacchi in questa stagione, ha faticato a mettersi in mostra, nel modo giusto, a prendere i giri corretti e quindi, visto che la gara di Napoli sarà molto dispendiosa, sia dal punto di vista mentale, ma soprattutto dal punto di vista fisico, non lo so, io cercherei di andare più con Rugani a sinistra, proponendo il trio Gatti-Bremer e giusto appunto Rugani. Vediamo, domani avremo, secondo me, più informazioni per quanto riguarda questa probabile formazione. È chiaro che si va ad affrontare un avversario che è riuscito ad avere la meglio agevolmente con il Sassuolo. Cosa mi preoccupa di questa gara? Soprattutto la buona luna di Ozyman, che sta bene, che mi sembra che sia tornato a essere molto, molto decisivo. Basti vedere che nelle ultime apparizioni è stato colui che ha trainato il Napoli, un po' come sta succedendo con Dujan Blauvic e la Juventus. E Ozyman cercherà, secondo me, una grande performance nell'imminente partita con la Juve. Anche in chiave in mercato, non tutto valutiamo questo aspetto, perché, lo abbiamo capito, Ozyman ha la valigia in mano, quindi sta cercando di mettersi in mostra. Quindi c'è il Paris Saint-Germain, che pensa seriamente a lui, con caratteristiche differenti per sostituire Kylian Mbappé, promesso sposo del Real. Quali sono le gare che poi portano i potenziali acquirenti a strizzare l'occhiorino e a fare sul serio? Queste. Perché poi sì, puoi fare tre gol al Sassuolo, ma se fai grande performance con la Juve, secondo me, invogli maggiormente l'acquirente. Detto questo, parliamo di Claudio Marchisio, perché c'è una novità importante. Claudio Marchisio, insieme al suo socio, storico collaboratore Alessandro Tocci, si buttano nel mondo delle procure. Attenzione, non che Claudio Marchisio sia diventato procuratore, cosa che invece è il suo socio Alessandro Tocci, che ha l'abilitazione sia FIGICI sia CONI. Quindi, semplicemente, hanno messo su da oggi ufficialmente questa struttura, dal nome Sircom, una football player agency, che hanno avuto tra le sue fila già diversi talenti. Magari questi nomi oggi possono dire poco, ma vi garantisco che nella scuderia Marchisio Tocci questi ragazzi hanno grande potenziale. Faccio riferimento a Francesco Stante dell'Inter, faccio riferimento a Filippo Reale della Roma, faccio riferimento a Davide Dell'Erba, talento italiano di proprietà del Bayern Monaco. Poi, comunque, hanno anche calciatori di esperienza, come Loris Carrius, il portiere di proprietà del Newcastle. E quindi faccio un grosso in bocca al lupo a Claudio, perché è una persona che stimo profondamente, mi piaceva tantissimo come calciatore, ma anche come imprenditore, basti vedere quello che sta facendo con Mate, l'agenzia di comunicazione, ma in generale, anche solo in qualità di opinionista, cioè Marchisio, quando decide di fare una cosa, tendenzialmente non la fa bene, di più. E creare questa Football Player Agency, secondo me, è un atto anche di coraggio, è un atto anche di coraggio all'interno di un mondo, e ve lo garantisco, è sempre più saturo, perché ci sono tante agenzie, tanti procuratori, tante persone che alleggiano attorno poi alla materia prima, che sono i calciatori. Però, d'altra parte, se Marchisio insieme ad Alessandro Tocci hanno deciso di fare quest'ulteriore step, significa che, al di là delle solide basi rappresentate dal fatto che, vi ho citato già prima, i talenti che hanno in scuderia, e non sono calciatori di poco conto. Anzi, io credo che Marchisio, da questo punto di vista, abbia già scelto la strategia corretta, perché i vari stante reale dell'Erba e tanti altri possono rappresentare dei crack in futuro. E prenderli ora è cosa buona e giusta per abbattere la concorrenza e ritrovarti calciatori dello spessore notevole tra qualche anno. E siccome Claudio Marchisio mi dicono che abbia davvero un occhio clinico per i talenti, uno che guarda tantissime partite e va a vedere le partite, anche il figlio che gioca la Juventus nel settore giovanile, io credo che si siano unite nella maniera giusta le due cose, con Alessandro Tocci, un ruolo anche se vogliamo più istituzionale, con tanto come vi ho detto di abilitazione, figici e coni, quindi poter al 101% esercitare questa professione, e Marchisio che è comunque un brand nel brand, che al di là del fatto che se ti chiami Marchisio, già traballi di per sé, però ha anche una profonda conoscenza del settore, è stato un grandissimo calciatore, ma mi dicono che abbia davvero anche l'occhio dello scout. E quindi io apprezzo, apprezzo chi si mette in gioco e chi decide poi, attraverso la sua struttura, di dare lavoro agli altri. Non dimentichiamo mai questo aspetto, perché poi uno può sempre immaginare Marchisio come la persona che ha preso tanti soldi nel corso della sua carriera, ma chi reinveste, chi apre delle aziende, comunque dà la possibilità a noi comuni mortali di lavorare. E questo per me è estremamente importante. Insomma, la fotografia dalla Continassa, notizie freschissime, verificate questa mattina, ve le ho date. Danilo e Chiese in gruppo, entrambi partiranno per Napoli. In bocca al lupo a Claudio Marchisio e Alessandro Tocci per la creazione di questa Football Player Agency. Sì, e niente, ora iniziamo a scaldare i motori per questa giornata di campionato. Devo dire, sono sincero con voi, io lo sono sempre, temo la partita di Napoli. Temo la partita di Napoli in relazione alle ultime cinque proposte della Juventus, in relazione anche del momento del Napoli, che deve fare una gara giusta per presentarsi con il miglior biglietto da visita in quel di Barcellona, successivamente. Questa è una gara che per loro può rappresentare molto e anche una delle ultime chiamate in chiave a qualificazione Champions, a meno che non la vincano, in campionato. Perché oggi come oggi anche la quinta italiana andrebbe in Champions, ma battere la Juventus consentirebbe loro di ricaricarsi un po' da punto di vista mentale. Forse, dico forse perché non abbiamo ancora la controprova, le partite sono poche e si parla solamente di un successo. Questo allenatore, rispetto a Mazzari e García, mi sembra che empaticamente, non parlo di tecnica, di tattica, abbia fatto maggiore presa rispetto ai due predecessori con il gruppo. E quindi, per tutti questi motivi, l'aspetto Z-Man, non sottovaluto Kvara, un po' la temo. Piaggiori commenti, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete un bel like a questo video e attivate la campagna.